E' il regalo di Natale dell'amministrazione comunale da mettere sotto l'albero di tutti i fanesi. Un importante sito archeologico, quello dell'anfiteatro romano nell'area dell'ex Filanda, diventerà patrimonio culturale cittadino. Questo è un grande obiettivo, ma soprattutto un obiettivo di valorizzazione della città, perché quell'area diventerà un punto di riferimento e di attrazione importantissimo per Fano. E' come stiamo programmando, quella dovrà essere anche la destinazione ultima, che noi pensiamo anche per il Lisippo quando tornerà in Italia. Adesso dobbiamo lavorare sul progetto scientifico che dovrà andare a riempire quel contenitore. Ora, dopo l'approvazione in giunta, il Consiglio deve ratificare e poi con ogni probabilità entro Natale si potrebbe andare a rogito tra il Comune e la Filanda SRL, proprietaria dell'immobile, per chiudere l'operazione da 650 mila euro per l'acquisizione dell'intera area, di 1.500 metri quadrati dove sorge l'anfiteatro romano, la cui cavea per la restante metà si estende però sotto la proprietà della Montanari S.P.A. Ma sicuramente una vicenda estremamente intricata e complessa, iniziata nel 2002, ha visto oggi un importante epilogo, passando attraverso però svariati tentativi di acquisizione in passato, come la permuta anche di un terreno di proprietà comunale in via del lavoro, trattativa iniziata dall'ex assessore Marchegiani, uno dei promotori primari di tutta questa operazione, ma di cui, per via di un'ipoteca presente, non se ne fece nulla e sino alla svolta poi dei giorni scorsi, resa possibile però grazie ai conti in ordine dell'amministrazione comunale. È possibile proprio grazie al fatto che il Comune di Fano è un Comune virtuoso e può fare un acquisto di questo genere in deroga ai vincoli che ci sono sugli investimenti nel bilancio dati dalla spending review del Governo, grazie appunto alla finanziaria dello scorso anno che permette ai comuni virtuosi come il nostro che approva un bilancio preventivo e consuntivo in tempo di fare investimenti di questo tipo che sono strategici e fondamentali per lo sviluppo del nostro Comune e della nostra amministrazione. Ora, una volta acquisito il bene, si deve attuare l'altro grande capitolo scommessa, quello dei contenuti e del continuo degli scavi archeologici. Si aprono delle partite anche di studio molto importanti che gestiremo assieme alla soprintendenza anche con una buona campagna di scavo che restituirà delle informazioni sempre per aumentare la consapevolezza della bellezza della Fano romana.